Il Comune di Chieti si è attivato per alleviare la situazione di disagio causata dalle sospensioni del flusso idrico disposto dall'ACA nei giorni scorsi e per i giorni a venire. Predisposta un'ordinanza di integrazione della funzione operativa ed emergenziale del centro operativo comunale anche per l'acqua, visto che il cosiddetto COC è già aperto per il distesto idrogeologico in modo permanente, in via di predisposizione per i mesi più caldi e estivi e anche un possibile servizio di autobotti. Il sindaco chiede un po' di pazienza ai cittadini che ovviamente sono stremati da queste chiusure a Sigliozzo e lo stesso Ferrara riferisce di capire le loro esigenze. E' evidente a tutti che un inverno come quello che ci siamo lasciati alle spalle, estremamente mite, ha portato a un depauperamento delle fonti di acqua, tant'è che sappiamo dai vertici dell'ACA che devono attivare il secondo pozzo di captazione di bussi, perché il primo è completamente privo di acqua, e questo secondo pozzo di captazione darà un sollievo, sottolineo questo termine, sollievo non risolverà il problema al 100% fino alla fine di luglio. Poi dal mese di agosto o settembre saranno ovviamente delle incognite ed è questo il motivo che mi ha spinto a fare una lettera di richiesta laddove ce ne sarà bisogno sia all'ACA che alla protezione civile nazionale di autobotti che riforniranno la cittadinanza nel momento in cui la penuria di acqua potabile diventasse veramente importante. Gli autobotti saranno posizionati negli stessi punti del 2021 con una seconda linea del COCA per supportare le persone più fragili nei giorni più caldi con vari servizi. E' appunto avvisare i cittadini che ultimamente c'è stato un guasto a Colle Marcone che ha peggiorato la situazione e in più si erano abbassati pericolosamente i livelli nel serbatoio più grande della Civitella per cui è stato necessario ripristinare quei livelli e poi far ripartire il tutto. Da un punto di vista anche tecnico questi stop and go sono ovviamente nocivi per la rete stessa perché nel momento in cui l'acqua viene ripompata la pressione più alta di quando fosse prima in un tubo ammalorato può farlo anche scoppiare. E senza fare i massagnelli e i capipopolo o demagogia dobbiamo interloquire con le altre istituzioni perché tutto funzioni alla meglio.